Sabato 23 aprile, appuntamento da non perdere con l'iniziativa La città della carta e dell'acqua, promossa dal Circolo ACLI Oscar e Romeo APSASD. Si tratta della prima tappa di un'iniziativa regionale che toccherà i temi della carta e dell'acqua, ma anche della storia, della cultura e delle attività produttive marchigiane, composta da una serie di eventi che saranno realizzati nel corso del 2022. Il primo appuntamento si svolgerà proprio sabato prossimo, dalle ore 15 a Pioraco, con ritrovo in Largo Leopardi. Seguirà una visita gratuita ai musei cittadini, della carta della filigrana, dei fossili e dei funghi, e dalla città e ai suoi luoghi più caratteristici, anche dal punto di vista naturalistico ed ambientale. L'iniziativa si svolge con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, evento organizzato dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione delle proprietà intellettuali. La partecipazione all'iniziativa è gratuita, prenotazioni al numero 393-9365-509. La manifestazione si svolge con il contributo ed il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche del Comune di Pioraco, in collaborazione con l'Associazione Musei di Pioraco e USA Climarche APS. Ulteriori informazioni consultando la pagina Facebook Unione Sportiva Aclimarche o visitando il sito usaclimarche.com.